Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo Pitti di questo nuovo video. Naturalmente, come sempre, ricordo di suscituire il like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche nel diagram, in tantissimi, ma avete scritto a riguardo in questa nuova pre-sale nata appena ieri, ma subito scopiettante, ok, dal vostro punto di vista, stake layer, andremo a vedere, si tratta di quello che è un nuovo trend potenziale, cioè lo staking di Bitcoin. Ovviamente, vi ricordo, al momento non è possibile, perché Bitcoin gira sul proof of work, però potrebbe essere molto interessante, per cui io andrò a rincesirvi questo progetto in maniera imparziale, ok, come l'ho visto, e per cui iniziamo subito. Per cui andiamo a vedere subito questa nuova pre-sale stake layer, ok, che si perfigge essere una pre-sale, che vedete molto interessante, guardate qui, volevo porre la vostra attenzione su questo. La pre-sale è nata ieri, ok, subito, ma avete letteralmente bombardato, ok, con questa pre-sale che fino a ora ha raccolto 3.000 dollari, quindi letteralmente nulla cosmico. Il loro prossimo obiettivo è quello di raccogliere 150.000 dollari, e al momento il prezzo è di 0.008. E3, io me la sono studiata, è molto interessante, e voglio porci, ok, circa 100 dollari, ok, quindi mettiamo 100 dollaroni, mi vado a prendere 13.205 di questi token, ovviamente, come sempre vi ricordo, non sono né così finanziari, né così trading, però, secondo me, cos'è molto interessante, qual è la seguente? Cioè, abbiamo appena iniziato, ovviamente vi ricordo che le pre-sale sono un rischio sistemico della Madonna, ok, se è chiaro, però essere tra i primi può implicare grossi rendimenti, quindi io mi sono andato a studiare un progetto che secondo me è interessante, ovviamente può morire, ok, vi ricordo, può morire, e ovviamente chi è anche dentro il gruppo cavoli sa quello che è il mio patrimonio, no? Quindi, insomma, 100 dollari, non mi cambia veramente niente. Quindi, io li vado a prendere in WSDC, ok? Basta collegare qui il vostro Metamask, ho già controllato, è sicuro, ok? O se volete il BNB Wallet, insomma, ognuno fa come vuole, clicco su Approva, e vedete che mi sta effettuando letteralmente la transazione, quindi io vado a mettere qui 100 dollarini, faccio Avanti, Approva, e vedete che, insomma, me l'ha presa, quindi la transazione è andata letteralmente a buon fine, e non ho investito tanto, ok? Per il momento voglio iniziare, tra virgolette, leggero, ok? Con questi 100 dollari, perché, insomma, si entra i primi, ok? Entra in questa pre-sale, dopo eventualmente mi rivaluterò se ci sarà hype, magari anche su Twitter, sulle varie piattaforme, eventualmente andrò a incrementare, ok? Questo è un po' il mio obiettivo, e quindi ovviamente vi ricordo, vi lascio sotto la link in descrizione, così siete sicuri, ok, di non incorrere in scam, che questo è il stake layer originale, e volevo andare a vedere con voi di che cosa si occupa questo progetto, perché noi sappiamo che, praticamente, Bitcoin gira sul Proof of Work, ok, utilizza questo sistema, noi, praticamente, che cosa vogliono fare? Uno di quei progetti, come avevamo visto già in passato, che vogliono portare Proof of Stake, ok, secondo me, probabilmente uno di questi riuscirà, in qualche modo, prima o poi, riuscirà, ovviamente bisogna vedere tra i vari progetti chi ci riuscirà, e probabilmente chi ci riuscirà andrà a fare bei numeri, quindi questa è un po' la mia convenzione tematica. Detto questo, ovviamente, rischio minimo, cioè nel senso, no, rischio minimo, investimento minimo, per potenzialmente avere un altissimo rischio, ok, così per tutto, però può dare grossi rendimenti. E quindi, loro, che cosa vogliamo fare? Vogliamo abbracciare, praticamente, il stake, però, per l'appunto, l'hanno chiamato di stake, quindi è possibile stakeare più volte i vostri Bitcoin, qui parlano comunque, tra virgolette, anche se stanno cercando di coinvolgere grosse aziende, per il momento, ovviamente, come vedete, hanno raccolto 3 mila dollari, quindi è poco, ok, niente, però, secondo me, in futuro, se andranno a fare un buon push, potremo vedere, secondo me, questo numero che andrà a aumentare, quindi, tra virgolette, io cerco sempre di, se entro su delle pre-sale, ma entro veramente in pochissime, l'avete visto, cerco di entrare tra i primi, perché i rendimenti possono essere molto più alti, e, tra l'altro, volevo anche mostrarvi, qui, come, per l'appunto, il loro obiettivo è quello di massimizzare, ok, gli restake, quindi, la potenzialità di poter risteccare, ok, più volte, i Bitcoin, in sostanza, ed avere un, poi, un rendimento, ovviamente, se che a me, tutto si baserà, regolette, sistema bancario, nel senso, gente che mette Bitcoin, dall'altra parte, li pagano le rewards, finché il sistema sta in piedi, sta in piedi, dopo, gli può essere un problema, ok, sia chiaro questo, perché il sistema è sempre quello, eh, poi, ovviamente, Bitcoin offre la maggiore sicurezza, a livello di protocollo, eh, ha un'interfaccia, ok, user-friendly, e soprattutto, anche il processo della trasparenza, ok, che comunque, loro hanno intenzione di mettere in atto, poi, tra i principali partner, troviamo Guard, Consults, e Solid Proof, famoso, ok, Solid Proof, che sembra stia, letteralmente, investendo all'interno del progetto, e tra l'altro, voglio mostrarvi anche quelli che sono, un po', ovviamente, i pilastri, ovviamente, loro parlano dello staking, ok, di Bitcoin, che vi ricordo essere, una cosa che ad oggi, non è attuata, ok, ricordo questo, perché è giusto, ricordarlo, è ancora, tutto, in atto, ok, cioè, non c'è una piattaforma, dove voi potete mettere in stake, che non esiste al momento, perché per l'appunto, Bitcoin gira attraverso il mining, ok, quindi, non è possibile sticarlo, però, ma in futuro, potremmo avere un qualcosa di parallelo, ok, al Proof of Work, e loro vorrebbero anche fornire, il Proof of Stake, attraverso alcuna coin, ok, quindi, ma di questo arrivare dopo, potrebbe essere molto interessante, e che è questo il team, troviamo, Vlad, troviamo, Anna, e altri, soggetti, ma è interessante anche la Tokenomics, perché, al momento, per la presenza, saranno destinati, circa 20%, 30% per la community, e gli user, 10% per il team, 10% per la liquidity pool, 15% per il development fund, 10% per lo strategic, e infine, un ulteriore 5%, per quanto riguarda il marketing, andiamo a vedere anche la roadmap, roadmap, per l'appunto, prima fase, ovviamente, della, tra virgolette, potremmo chiamarla presale, sì, ma ovviamente, prima c'è una fase di ideazione, ok, sempre, quindi hanno scritto, praticamente, su carta, quello che è il progetto, ok, layer 2, dopodiché, prelancio, prelancio, di cosa si sono occupati, ovviamente, della campagna, ok, del presale, ok, quindi ovviamente, bisogna pushare, bisogna marketizzare, ok, letteralmente il tutto, stanno anche cercando, quelli che sono i stakeholders, cioè i potenziali investitori, che possono investire, in questo progetto, e poi, infine, arriviamo, alla fase 3, fase 3, che per l'appunto, occupa, una alpha version, del progetto, quindi, ovviamente, prima che venga messo in atto il progetto, ci sarà una fase, di certo che viene chiamata beta, però l'hanno chiamata alpha, di test, ok, questo è un po' riassunto, e poi, fase 4, per quanto riguarda, la creazione, ok, di una vera e propria minet, quindi di un proprio ecosistema, che permetterà, quello che poi sarà, il restaking, di bitcoin, quindi, questi sono, in sostanza, i pilastri, ok, di questa pre-sale, dopodiché, c'è anche questo interessante articolo, nel quale, praticamente, si parla, della possibilità, il quale, seguito, ovviamente, sappiamo, BlackRock, come ha portato, tantissimi istituzionali, all'interno del mondo cripto, e, anche questo progetto, ovviamente, potrebbe, tra le quattro, beneficiarne, perché, più aumenta il prezzo bitcoin, più vanno aumentare le rewards, e più, ovviamente, anche, va aumentare il progetto, quindi, questo, in sostanza, il progetto, che è il stake layer, che poggia, per l'appunto, come possiamo vedere, sul proof of stake, qui ci spiegano, un po', anche, più in particolare, come funziona, l'ecosistema, ok, non è facile da capire, però, in sostanza, ve lo riassumo, praticamente, ci sarà chi, attraverso DeFi, le apps, darà, ok, in prestito, ma di noi, di bitcoin, noi riceveremo le rewards, perché, a sua volta, ok, qualcun altro, avrà poi preso, a prestito, da di bitcoin, quindi, da l'altra parte, si andrà a pagare, un interesse, questo, è un po', il riassunto del progetto, spero, che sia, diciamo, letteralmente, tutto chiaro, vi ricordo, che potete anche, seguirli su, Twitter, al momento, hanno 4533 follower, non sono pochi, però, vedete, le interazioni, ne sono basse, ok, guardate qui, 12 like, abbiamo avuto un tweet, 17 ore fa, poi un altro, 17 ore fa, 12 like, quindi, come vedete, al momento, si è raccolto, davvero poco, all'interno di questa pre-sale, circa, 3158 dollari, ok, quindi, e niente, è un lacosmico, e quindi, il potenziale è alto, perché anche a livello di Twitter, non sono ancora partiti, quindi, infine, vi ricordo anche, che potete seguire, quello che è il loro Telegram, per capire anche, quelle che sono, le varie, interazioni, ok, tra i membri, ti ricordo ancora una volta, se vuoi andare a vedere il progetto, io ti lascio sotto, in descrizione, ti ricordo, che siamo prima inizi, il rischio è immenso, e per cui, io ho deciso, veramente, di metterci una piccolissima, parte, del mio portafoglio, e per cui, se vi è piaciuto questo video, ti ricordo di, di suggerire il like, iscrivervi al canale, e noi, ci vediamo, presto, hasta la vista, ombre,